Trevi Max 24 è un cellulare di facile utilizzo, ideato per un pubblico senior o per chi è poco pratico di tecnologia. Grazie ai suoi tasti grandi potrai effettuare facilmente telefonate ed inviare SMS e il display da 2,2 pollici ti permetterà di avere sempre un'ottima visione in ogni condizione. Max 24 è dotato di funzione SOS integrata, attivabile rapidamente tramite un tasto dedicato che permette di chiamare i numeri predefiniti dei tuoi familiari e in caso di mancata risposta invierà loro un SMS di avviso. Possiede inoltre la funzione di ripetizione vocale dei numeri durante la composizione, un display a colori con semplici icone intuitive, due tasti rapidi per chiamare con un solo tocco due numeri preimpostati ed un blocco tastiera semplice e manuale tramite interruttore posizionato lateralmente. La comoda base in dotazione permette di ricaricare facilmente Max 24 solo appoggiandolo, rendendo l'operazione davvero semplice. Fotocamera, radio FM, lettore di file audio-video, Bluetooth, calendario, sveglia, calcolatrice, torcia LED completano il cellulare senior di Trevi. Grazie a tutti! Grazie a tutti.